adesso vi spiego perché ho voluto che luciano prendesse in mano la chitarra allora dal 22 di giugno alla sera ci sarà una trasmissione nuova su rete 7 dalle dalle ore 19 alle 20 si intitolerà e io ne sono veramente orgoglioso casa per i retti il venerdì sarà dalle 21 alle 23 ma attenzione il sabato il sabato sarà sempre dalle 19 alle 20 ma bimbi e anche non bimbi domani lunedì martedì andate comprare una chitarra se non ce l'avete oppure la rubate al nonno la rubate al papà la rubate a chi volete perché ci sarà luciano qui con noi e vi insegnerà partendo da zero e lo strumento della chitarra quindi faremo un po di teoria un po di pratica luciano vai avanti tu partiamo veramente dall'inizio diciamo facciamo anche un pochino un pochino di solfeggio quindi insegniamo anche le note musicali perché importantissimo quello poi chi vuole prosegue chi non vuole la strimpella la chitarra suona con gli accordi così però va bene in ogni caso la chitarra fa compagnia quindi te la porti un po dappertutto al mare in montagna pianoforte non si può bene ricordiamo gli appuntamenti allora casa peireti starà in onda dal 22 di giugno dal 22 di giovedì dalle ore 19 alle ore 20 mentre il venerdì sera durerà due ore saremo in prima serata con voi con tanti ospiti dalle ore 21 alle ore 23 ci saranno scenette ci saranno momenti momenti belli momenti romantici momenti divertenti quindi stiamo cercando di creare creare una sorta di di show dove si intitolerà a casa peireti proprio perché è registrato non è registrato dal vivo ma tutto qui a casa mia quindi ci proveremo vediamo cosa succede e evviva sarà bell'idea Allora